80 spettacoli, 3 mesi, 8 compagnie toscane e numerose presenze internazionali. Sono questi i numeri della seconda edizione di Dotline, il progetto della regione dedicato alla danza contemporanea, un esperimento unico in Italia che dopo il successo dello scorso anno torna da ottobre a dicembre con un itinerario artistico attraverso i luoghi e i protagonisti della danza toscana. Quest'anno la stagione si articola su tre mesi anziché su cinque, sarà dal 1 ottobre al 31 dicembre. Gli spazi sostanzialmente sono ancora una volta quelli delle residenze delle compagnie toscane più altri teatri su tutto il territorio della regione. In sostanza riusciamo a coprire praticamente tutte le province della Toscana e quindi siamo molto soddisfatti di essere arrivati a questo secondo appuntamento. Quest'anno ospitiamo rispetto all'anno scorso un po' più di spettacoli stranieri e questo ci fa molto piacere perché abbiamo modo in qualcosa di aprirci a ospitalità molto importanti di compagnie stranieri, israeliani, spagnole ed altre. Tra l'altro grazie a proprio un lavoro di collaborazione tra le compagnie residenti che sono riusciti a fare proprio dei progetti coordinati per ospitare questi artisti in Toscana. Saranno le presenze internazionali la novità di questa edizione con grandi nomi provenienti soprattutto dal Mediterraneo come Miniatures Officine di Marsiglia che porta al Cango di Firenze le creazioni di sei coreografi da Francia, Egitto, Libano e Tunisia e ancora la prima nazionale della compagnia di Singapore The Odyssey Dance Theater al Motus Danza di Siena e il performance David Zambrano alla Limonaia di Sesto Fiorentino. Abbiamo due presenze israeliane Iris Erez e Maya Brinner una presenza portoghese qua in Calauro una presenza David Zambrano che è un sudamericano che opera ad Amsterdam e una coreografa tedesca Katia Flaich e la compagnia di Barcellona Dutu De Palolla per cui il programma è molto aperto a quello che proviene dall'estero nonché presenze italiane dalla compagnia Zappalà a molti artisti più giovani italiani come Daniele Albanese o altri. Ad esibirsi sui palchi delle otto realtà toscane che partecipano al cartellone di Dot Line non mancheranno le eccellenze della danza contemporanea italiana come la coreografa e danzatrice Paola Bianchi o la compagnia Erzilia Danza.